Dopo anni di battaglia il calvario giudiziario di Arianna Manzo sta per volgere al termine martedì alle 15 in Regione. Sarà sottoscritto l'atto transattivo tra la famiglia della diciottenne di Cava dei Tirreni del Cardarelli. La ragazza, nota tristemente come la bimba di legno, riceverà un risarcimento di oltre 3 milioni di euro che verrà gestito da un giudice tutelare. I fatti risalgono a quasi un ventennio fa Arianna Natasana. A tre mesi fu costretta ad un ricovero che le ha cambiato per sempre la vita. Per i consulenti del tribunale infatti la piccola fu vittima di un errore medico che l'ha resa sorda e ipovedente tetraplegica. Arianna è stata reclusa per tutta la sua vita all'interno di una piccola casa senza neanche poter accedere a quelle cure che le erano necessarie per la sopravvivenza. Dopo 11 anni di battaglie giudiziarie con la firma di martedì arriveremo a riconoscerle quella dignità e quel futuro di cui aveva bisogno. Dopo anni di battaglie l'atto transattivo permetterà di mettere la parola fine ad una storia che ha segnato in maniera tremenda la famiglia Manzo. Il maxirisarcimento infatti consentirà ad Arianna di vivere in maniera più dignitosa e di ricevere cure appropriate a cui per troppo tempo ha dovuto rinunciare.